E volevo chiederti una domanda sugli angeli, è da parte di Francesco. Salve fratelli, volevo sapere alcune cose riguardo agli angeli. I cattolici credono negli angeli custodi, cioè che ogni persona ha il suo angelo difensore al proprio servizio. Allora, prima di tutto credo che un angelo non possa essere al nostro servizio 24 ore non stop. Ma bensì credo che... Vabbè, cominciamo, perché non gli rispondi questo intanto? Eh? Eh, prendi una scrittura, Ebrei 1.14, cominciamo a rispondere a questo. Ebrei 1.14? Sì, quando... Cioè, cerchiamo di non vedere le cose a prospettiva cattolici o protestanti, se no ci perdiamo, eh. Vabbè, cerchiamo di vedere le cose a prospettiva, la verità o la non verità, la Bibbia e la non Bibbia. Ci siamo? Sì. Allora, andiamo. Ebrei 1.14. Non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Ebrei 1.14. Allora, lui cosa ha detto? Non credo che sono i nostri servitori? Credo che un angelo non può essere al servizio nostro 24 ore non stop. Ma non è questo che stiamo discutendo qui. Non sappiamo se 24 ore o sicuramente se siamo sotto la protezione degli angeli di Dio. Questo avviene quando camminiamo in ubbidienza. Nel mondo dello spirito non c'è 24 ore o 12 mesi. Siamo sotto la protezione. Io personalmente, la mia opinione è che sì, siamo sotto servizio. Siamo sotto protezione 24 ore al giorno. Perché non è fare alla guardia e stare in palato davanti lì al Quirinale, le guardie lì, gelate di freddo, non possono muoversi, arriva il Presidente. Non è questa la guardia che sta parlando la Bibbia. Sono angeli che volano nel cielo, angeli di Dio che controllano una nazione, un altro angelo controlla una città, un altro angelo controlla un uomo, una donna, un bambino. In continuazione. E poi, come dice, sono mandati al vostro servizio? Sì. Sì, il servizio non è da intendersi il servizio come nel mondo che conduce alla morte, conduce all'umiliazione, conduce ad essere uno schiavetto che lava i piatti. Il servizio dal punto di vista di Dio, come quello che Gesù faceva a noi, non solo quando ha lavato i piedi, ma il servizio di Gesù era sempre lì quei 12, notte e giorno. Questo è il servizio. Cioè, prendersi cura la chioccia, presta servizio ai pulcini. Non è la serve in senso negativo, ma serve in modo glorioso. Gesù si è paragonato a una chioccia. Andiamo, Angela. Allora, prima di tutto credo che un angelo non possa essere al nostro servizio 24 ore non-stop, ma bensì credo che sia solo ed esclusivamente al servizio di Dio. Cioè, gli angeli non sono nati per soddisfare i nostri propri comodi. Quindi saremo anche degli egoisti a pensare che un angelo di Dio si debba comportare come un cameriere, un badante, un bodyguard nei nostri confronti. Cosa dici, Giuseppe? Poveri angeli! Sto scuotendo la testa. Ma nessuno sta dicendo che un angelo è il nostro badante. Cioè, lui sta paragonando gli angeli di Dio a terminologie terrene, al modo che in questo mondo un multimilionario ha al servizio un sacco di schiavetti. Sì. È come l'Islam che per Allah gli islamici sono i suoi schiavi. E sicuramente si ritengono schiavi. Invece non è così. Gesù ha detto, vengo e vi chiamo, sono venuto per chiamarvi amici. Giovanni 15, 13. Dice, vi chiamo amici, se fate tutto quello che vi comando. Ecco, quindi il figlio dell'uomo, infatti Gesù ha detto, non è venuto per essere servito, ma per servire. Ok. Ecco, quindi non è che non è per attacca briga, ma insomma non paragoniamo il servizio di Gesù verso di noi come una specie di cameriere, badante, bodyguard. Gli angeli non sono certo camerieri, virgolette. Ma, come abbiamo letto, ebrei 1,14, sono spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza. Ebrei 1,14. Grazie a Dio per la parola, man. La parola mette la parola fine, è una diatriba. Non è che gli angeli sono lì aspettando il nostro comando, è al contrario. No, è nel mondo che un servitore nel mondo è uno schiavo. Tu imbecille vieni qua, tu pulisci le scarpe mentre fumo il sigolo. Questo è il servitore del mondo. Vedi, anche qui in Sud America, vedi, a volte c'è gente che si siede sul seggiolone e gli illustrano le scarpe. E questo a me non mi piace, mi illustrano le mie scarpe. Un angelo è al contrario, è quello che ci guida, ci trasmette il messaggio di Dio. Siamo noi che dobbiamo obbedire. Non loro a noi, ma noi a loro. Certo, qui siamo in campagna e c'è una stradina qui davanti a nostra casa e vedi le chiocce con i pulcini, diverse chiocce con i pulcini diverse, le vedi corre di qui e di là. Ti avvicini passeggiando e la chioccia se li porta via i pulcini. La chioccia sta servendo i pulcini, ma non è la schiava nel senso negativo, come gli uomini hanno schiavizzato altri popoli, catena al collo, la frusta sulla schiena. Quello è il servizio dell'uomo, come Giuseppe diceva, la tristezza del mondo, io direi la schiavitù del mondo conduce alla morte. Ma il servizio di Gesù verso la Chiesa, verso di noi, è un servizio, Dio è al nostro servizio in un certo senso. Ha detto il sabato, l'uomo non è fatto per il sabato, ma il sabato per l'uomo. Dio è qui a servirci. Ci ha dato la vita, ci ha fatto nascere di nuovo, ci guarisce, ci benedice, ci battezza nello Spirito Santo, ci dà la salvezza, ci serve in questo senso. Se noi siamo obbedienti nello Spirito e serviamo Lui, Lui anche è al nostro servizio, ma altrimenti no. Sì, ma il servizio che Dio fa per noi, non è il servizio del mondo per il mondo, che è un sistema di schiavitù per schiavizzare tutti. Quindi questo fratello sta paragonando il servizio di Dio verso di noi, degli angeli, con il servizio che nel mondo si usa, cioè che nel mondo il servizio è schiavismo. Tu sei dipendente di una fabbrica e sei uno schiavo. Ti possono licenziare, ti possono magari anche pagare. Dimmi, John. Perché ho sentito tante storie di persone che hanno testimoniato come angeli li hanno salvati. Perché ho sentito tante storie di persone che hanno testimoniato come angeli li hanno salvati. Una storia solo, vi racconto. C'era un uomo. Stava nuotando con un cugino da qualche parte. E ha detto quella notte, mentre guidava verso casa. Era già mezzanotte. Ha deciso di tornare indietro e andare di nuovo a nuotare. È andato sul trampolino e voleva saltare nell'acqua, però ha visto giù nell'acqua qualcosa che sembrava come una croce. Una croce che brillava nell'acqua. Quindi è sceso dal trampolino e è andato giù per guardare cosa c'era. Però è sparita, non c'era niente. E si è reso conto che nel swimming pool? Nella piscina? Nella piscina non c'era acqua. L'hanno vuotata, non c'era acqua. Quel giorno hanno vuotato la piscina? Si sarebbe ammazzato. Dice Jasmine che la croce che ha visto da sopra era un angelo con le braccia aperte. Se non c'era stato l'angelo sarebbe morto. Quindi la mia opinione è che ogni persona ha un angelo. Ma noi magari abbiamo anche più di uno. Oh, scrittura, scrittura, non opinioni. Scritture. Ma guarda, Gesù stesso aveva angeli custodi. In Gazzemani? Dove è scritto? In Gazzemani? Certo. E poi ha detto anche ai discepoli, quando sono andato ad arrestarlo, Gesù ha detto ai discepoli, lasciateli pure. Non lottate, lasciateli che mi arrestano. Perché non credete voi che io potrei chiamare il padre, pregare il padre che mandi 12 legioni di angeli? E' una legione che era da 6.000 a 10.000 soldati, quindi qui stiamo parlando di 120.000 angeli circa. Comunque, Ebrei 1.14 abbiamo letto molto chiaro. Spiriti servitori mandati a servire, ripeto due volte il servizio, per il bene di coloro che devono ereditare la salvezza. Quindi Dio manda i spiriti servitori in Cristo. Non certo per nessuno dei nostri sciocchi capricci umani. Quindi questo non è in questione. Niente di male nel servizio in Cristo. Come è scritto Matteo, andiamo a Matteo 20, 27-28. E chiunque di voi vorrà essere primo, sarà vostro servo. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20, 27-28. Quindi Gesù è venuto al nostro servizio. Ora, dal punto di vista del diavolo, dice, ah, non so schiavetto. E no, caro. E no, non ha capito niente. Il nostro Dio, il nostro principe, il nostro salvatore, che si è inginocchiato per lavare i piedi. Ma questo qui è uno dei più grandi insegnamenti. Non è, diciamo, il compito di Dio, la mansione, di lavare i piedi. Tutta mattina Dio viene qua e mi lava i piedi. Non è così la storia. Gesù ha dato un esempio. Mostrare come noi dobbiamo fare l'uno o l'altro. Gesù ci ha serviti, è stato nostro servizio, fino al Calvario. Servizio di Dio, non servizio del mondo anticristo. Non dobbiamo preoccuparci di come il nostro angelo custode ci serve, ma bensì che noi ci diamo da fare a seguire l'esempio di Gesù, darci da fare a servire le pecorelle intorno a noi. Servire cosa? Servire loro la salvezza di Gesù, il battesimo dello Spirito Santo, la guida nella parola, la parola è insegnare loro come la parola li guida fuori da questo mondo. Va bene, e questo a volte può richiedere un sacrificio supremo, come anche fino a un Calvario. Guidare le pecorelle, come dice mogli, siate sottomesse ai mariti. Mariti, amate le mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la sua vita. Non possiamo usare paragoni col mondo. Il mondo dovrebbe prendere paragoni con Dio, con la Bibbia, ma non il contrario. Invece quello che questo fratello sta facendo è che sta usando i paragoni del mondo, come fa un angelo, essere nel nostro servizio 24 ore al giorno, non stop, quindi soddisfare i nostri propri comodi. quindi saremmo degli egoisti se pensassimo che un angelo di Dio si deve comportare come un cameriere, un badante, un bodega. Stiamo paragonando il regno di Dio al mondo. Come fa il regno di Dio a essere come il mondo? Non lo è. Va bene. Infatti tu prendi il ministro della nazione, il primo ministro, poi gli altri ministri. La parola ministro vuol dire servo. Ora, dal punto di vista del mondo, il primo ministro e gli altri ministri sono dittatori, sono oppressori, possono essere oligarchi, possono essere capri, possono essere orribili, no? E lo sono spesso, volentieri. Però nel regno di Dio no. Il ministro di una chiesa è uno che serve alla chiesa. Non è come mercenari di oggi che pensano solo a ripulire le tasche dalle finanze, ripulire le tasche delle pecorelle. Allora, che altro c'è? Continua il messaggio. Dice Francesco, siccome qualche volta mi sono messo a cercarlo nella Bibbia, ma non ho trovato niente sugli angeli custodi, quindi presumo che sia una invenzione della chiesa cattolica. La cattolica. Perché ridi? Perché questo ce l'ha anche il cattolice. Ma fratello, attenzione, perché è la nostra missione. Noi abbiamo cattolici e protestanti allo stesso livello. E gli angeli cosa sono? Dove sono? Chi sono? Sono custodi o non sono custodi? Cosa dice la Bibbia? Io sono un angelo. Oh! No, no, stiamo parlando di angeli. Lo dice nella Bibbia. Dove dice che tu sei un angelo? Apocalisse 2 e 3. Andiamo. Vai alla prima scrittura, Apocalisse 2 e 1. Comunque la domanda non è quella, ma dove dice che tu sei un angelo? No, ma lì lo dice. 2 e verso 3. Verso 1. Verso 1. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi. Ecco, stop. Vai alla prossima chiesa. 8. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi. Alt. Prossimo angelo di Tiatiri. 18. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi. Alt. Vai al prossimo angelo. No, ho capito già, basta così. Devo continuare? Ci sono sette chiese e sette angeli. Sì. Va bene? Angelo è la parola aggelos. La mia pronuncia greca. Non so se faccio colpo, ma ci saranno dei fratelli che hanno studiato il greco meglio di me. Agelok. Agelok. O agelos. Agelok. Agelos, sorry, you're right. Agelos. Agelos o agelos. Scusate, io ce la pronuncia di Atene, capito? E lì c'è un accento. E in greco questo significa a messenger, an angel, a pastor. Hai capito? Un messaggero, un angelo, un pastore. Capito? Quindi io sono l'angelo della chiesa dello spirito. Vero. E quel fratello là che c'è una chiesa cattolica, lui è l'angelo della chiesa cattolica dietro l'angolo. Quell'altro è l'angelo della chiesa pentecostale. Vado avanti. No, no, quelli angeli parliamo del cielo. Però ci sono angeli, angeli però. Sì, sì. E l'angelo di Sardi, Apocrizia 3.1, cosa dice? E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi. Cosa dice? Non lo so. Verso 3? Capitolo 3? 3.1. Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere ma sei morto. Capito? Quindi non è che perché te sei l'angelo di una chiesa, il pastore di una chiesa, è automaticamente una raccomandazione. Hai fama di essere vivo ma sei morto, stecchito, putrefatto e seppellito. Quindi non è che sia darsi le aria. Io sono l'angelo, baciatemi. No, no, no. Come i vescovi di certe chiese si fanno baciare la mano. Ma ti puoi togliere, togliere, per cortesia. Perché ti ho baciato la tua mano? Quello si fa la mafia. Sai, in Italia ai capi mafiosi si bacia la mano. E da chi hanno imparato questi pelandroni di chiesa a farsi baciare la mano? E magari sono un branco di pedofoli a piede libero. Allora, vai avanti Angela prima che tu ti arabi. Sì, grazie, perché voglio chiederti la domanda precisa sugli angeli custodi. Cioè, angeli che Dio ha nei cieli. Lui ha creato gli angeli custodi, la Bibbia parla di questi o è una invenzione della chiesa cattolica? Sì, possiamo lasciare i cattolici in pace. Per cortesia. Guarda, già lì stiamo bombardando abbastanza i pacciamama, i pacciamama e anche certi pastori protestanti. Però il fatto che le congregazioni cattoliche protestanti non hanno colpa se certi loro pastori sono come la chiesa di Sardi, in nome di essere vivi, ma sono morti e stacchiti. E loro sono lì seduti che non capiscono, non sanno discernere. Non sanno discernimento dello Spirito Santo perché semplicemente non glielo chiedono. E non sanno discernere che il loro pastore è un palandrone. È uno che ha solo un hobby, cercare i soldi nelle tasche delle pecorelle. Va bene. Invece i pastori veri vanno nella strada come Gesù a cercare le pecorelle, altro che i protestanti cattolici. Lasciamoli le loro panche, le loro statue e panche. Amen. Ah, Signore. Ripetimi le ultime due parole che hai detto perché sono tutti confondi. Grazie. Nella Bibbia ci sono scritture sugli angeli custodi? Beh, ci sono, ci sono, sì, guarda, leggi Esodo 23, guardiamo Esodo 23. Ok. Verso 20. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Esodo 23, 20. E poi Dio disse, poi dice anche, cercate di non disubbidirlo perché non vi perdona quell'angelo lì. Ah, quindi non è un servitore così. Capito. E poi anche Matteo 18, guarda. Matteo 18, 10. Guardatevi da disprezzare uno di questi piccoli perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del padre mio che è nei cieli. Matteo 18, verso 10. Sì, e poi dice nel capitolo, dice, chi offende uno di questi piccoli è meglio che si butta a mare con una macina da mulino, ma macina, una ruota grossa però, perché è grave offendere. Qui parla di quelli che fanno aborti, parla di Zelensky, parla di Russia, Ucraina, America, quelli che uccidono, uccidono, uccidono. E questi qui... Comunque il punto è, ci sono gli angeli nel Vecchio Testamento e anche nel Nuovo. Qui in Matteo 18, 10, dice chiaramente i loro angeli, cioè sono angeli designati a loro, non qualsiasi angelo che per cinque minuti Dio gli dice di aiutarti, ma i loro angeli, cioè come se appartenessero a loro, sono angeli custodi. Perfetto. Una dottrina perfetta. Non è dottrina questa. Sì, come fai a sapere se è una dottrina perfetta, Angelo? Non lo so, io non creo dottrine. Yes, go ahead. Quando è sostenuta dalle scritture. Esatto. E tu hai detto, hai semplicemente detto in altre parole quello che è scritto. I loro angeli, diciamo proprio i loro angeli, di loro, vedono continuamente la faccia del padre. Quindi i bambini hanno degli angeli, gli adulti no, anche gli adulti, solo che gli adulti hanno la zucca un pochettino più dura. È vero. Ma quando si parla in Exodus... Questo è il Nuo Testamento. Sì. Nuo Testamento. Sì, sì. Quando si parla in Exodus del angelo che Dio sento per uccidere il primo bambino, l'angelo di morte, era da Dio o del Dio? No, no, era da Dio. Quindi Dio ha un angelo di morte. Ha detto che Dio ha inviato l'angelo della morte a sostegno. Il mio sostegno, la mia interpreta. No, no, ma ha detto che Dio ha mandato l'angelo della morte a uccidere i bambini neonati. Ma non ho capito. E lui lo chiama l'angelo della morte. Io non ho capito. Lui vuol sapere se quello era l'angelo della morte, se era da Dio o del diavolo. Perché io dico sempre che secondo me l'angelo della morte è il diavolo, non è Dio. Però lui dice calma, perché lui mi controlla sempre. Lui questo qua è la mia spina nel fianco. No, no, ma ha ragione. Ma però lo chiamiamo l'angelo della morte. Però non è l'angelo della morte, diciamo. È una maledizione di Dio. Chi è che ha mandato il fuoco su Sodoma? C'erano due angeli insieme a Dio. Genesi 18. Dio si è andato e ha rialzato due angeli. I due angeli hanno chiamato il fuoco del cielo. Sono gli angeli della morte. Diciamo che è una maledizione di Dio. Chiamali come li vuoi. Guarda, atti 12, 14, Angelina. Atti 12, 14. E riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia, non aprì la porta, ma corse dentro a annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero, tu sei pazza. Ma ella insisteva che la cosa stava così. Ed essi dicevano, è il suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare e quando ebbero aperto, lo videro e rimasero stupiti. Atti 12, da 14 a 16. Quindi qui dicono, è il suo angelo. Quindi nella Bibbia il suo angelo è una cosa normale. Lo dice dappertutto. Pietro aveva un angelo. Quindi è sbagliato. Fratello, te lo dico con amore, non voglio che ti senti male. Però dobbiamo ricevere correzioni qua. È sbagliato pensare che non abbiamo angeli che ci proteggono. Puoi chiamare l'angelo personale, puoi chiamarlo l'angelo custode, eccetera. È biblico. Quindi, cioè, vedi tutti i paragoni ai cattolici, eccetera. Non devi fare così. Il paragono è una religione, ti senti o peggio o meglio di loro. È sempre sbagliato. Sempre andare alla parola. Sempre confrontarsi con la parola, con Gesù, con quello che è scritto. Se no, non ci capiamo. Se no, finiamo nella fossa dei cattolici protestanti. Tutte le denominazioni, i geoi, sono tutti dentro questa fossa. Che si paragonano religione con religione. In questo non sono saggi. Allora, io, secondo me, diciamo, con amore, ti sei sbagliato. Questo non vuol dire che il cattolico ha necessariamente ragione. Bisogna andare a sentire esattamente cosa dice. Però se il cattolico dice che lui crede negli angeli custodi, io sono d'accordo con lui. Non perché è cattolico. Sì, sì. Ho capito, perché è biblico. Gli angeli, certo, non sono camerieri per i nostri capricci. Ci mancherebbe altro. Loro sono pronti al comando di Dio e al tuo posto chiederei, io chiederei a questi cattolici di perdonarti. Hai capito? E anzi, guarda, chiedo agli angeli che ti stanno ascoltando. Per cui, in questo caso, cattolici o protestanti hanno ragione perché è scritto, non perché sono cattolici. E questa non è una buona garanzia, anzi, è una brutta garanzia. Se sono cattolici, allora deve stare attento. Protestanti è lo stesso. Alla parola, la parola, la parola, per cortesia. A Gesù, chi è la parola? Gesù. Che altro dice sto fratello? Comunque ha detto il fratello che è aperto anche alla possibilità che lui ha sbagliato. Ha detto, comunque, attendo risposta e conferma da fratello Giuseppe, in caso io mi sia sbagliato a riguardo. Poi vorrei sapere una cosa. È stato tranquillo sapersi quante volte io ho sbagliato. Poi vorrei sapere una cosa. Fratello Giuseppe dice che noi umani, una volta morti, diventiamo degli angeli. Potresti darmi una scrittura in cui si dice che lo diventiamo dopo? Il che sarebbe bello. Però vorrei sapere se nella Bibbia hai riportato. Beh, andiamo a Matteo 22. Cos'è che dice? Matteo 22, 29 e 30. Ma Gesù rispose loro, voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio, perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Matteo 22, 29 e 30. Ecco, dice voi errate che non conoscete le scritture, perché alla risurrezione i risorti sono come angeli dei cieli, è sufficiente o devo elaborare. Cioè diventano angeli o sono come angeli o in che senso? Sono angeli. Sono angeli? Angeli. Wow. Non ci sono angeli categorie B, di A e B, terza categoria, quarta categoria, tranne che per i premi e le corone. Ah, ci sono diversi livelli. Eh sì, perché se tu sei fedele, puoi essere una... Adesso tu ti chiami Angela, no? E sarai un'arcangela. Ah, magari, yeah, of course. Cioè, ma devi solo rigare diritto Angela. Solo che non dipende da te, da me dipende questo. Fino adesso stai rigando abbastanza, continua. No, abbastanza no. No. No, e qui non mi posso lamentare, non ci possiamo lamentare. No, a volte ti lamenti anche. Sì, ma tu ascolti... Di la verità. Tu ascolti e ricevi però le correzioni. E spero di sì. E anche io ricevo correzioni qua. Quindi non è che me le fanno passare lisce perché lui e il signor frate Giuseppe, ma neanche per il fischio. Una moglie di qua, una moderatrice di là, qui, sono tra due fuochi. Ma tu vieni e chiedi le correzioni. Io ti sento sempre che chiedi e chiedi, correggetemi. È perché è così che si cresce. Ecco. Non evitandole, ma accettandole. Che altro dici a fratellino? Poi volevo anche dire una cosa, più che altro, che trovo strano. Perché un uomo e una donna, una volta morti, dovrebbero diventare angeli? Allora Dio non avrebbe fatto prima a crearci direttamente angeli? Guarda, perché non mandi il telegramma in paradiso? Guarda, Dio ci ha creato le sue immagini. Più di così, questo qui è al massimo che Dio puoi crearci. Va bene, ha creato Adamo e gli ha detto, gli ha dato dominio sopra tutto il mondo. Genesi 1, abbiate dominio. E loro, sventurati, hanno passato questo potere al diavolo. Chi gli ha dato potere al diavolo? E loro, Adamo e Eva, noi, quanto pecchiamo, no? Cioè, Dio ci ha creato le sue immagini. L'immagine più bella e gloriosa che c'era. Sicuramente conosci gli avvenimenti. Era caduta Adamo e Eva, era cacciata dal giardino. Quindi lo scopo di Dio per noi adesso, per cui ha mandato Gesù, e di farci diventare come Gesù. Guarda, Primo Giovanni 3. Primo Giovanni 3? Secondo. Verso 2? Sì. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Primo Giovanni 3, verso 2. Attenzione, amici mormoni che alcuni di voi credono che possano diventare come Dio. Non dice che saremo come Dio, saremo simili a Lui. Cioè, la famiglia divina. Cos'è? Secondo Pietro 1,4. Partecipare della natura divina, secondo Pietro 1,4. Però non è che diventiamo Dio. Che altro, Angelina? Apprezzo molto la vostra disponibilità, dice Francesco, nel rispondere alle domande sia mie che quelle degli altri fratelli e sorelle. Grazie, un caro saluto a tutti voi. Dio vi benedica. Gloria a Dio. Grazie, fratellino. Grazie, grazie. Comunque, dolce fratello, ti consiglio di scrivere ad Angela e Dora, o Dora, che ti mandano il corso biblico gratuito, ti può essere di grande aiuto. Non so se l'ha ricevuta sto fratello. Non mi ricordo adesso. Ecco, io gli consiglio, gli consiglio di studiare queste cose, no? Io ho fatto il corso biblico dopo tantissimi anni, una quarantina d'anni. Cioè, sì, più di quarant'anni a servire al Signore, qui, lì, quattro e quattro otto, puoi imparare cose che io ci ho messo quarant'anni a impararle. E dopodiché poi potrai fare meglio di me, puoi essere più grande, eccetera. Però intanto cominci a imparare l'asilo, l'asilo infantile, i primi passi, e poi correrai più veloce dei genitori. Amen. Ma imparate il fondamento, fratello, non siate lazzaroni. Amen. Aggiungo velocemente una scrittura arrivata pochi minuti fa da parte di Giuseppe. Giuseppe. Salmo 91, verso 11. Sì. Poiché egli comanderà ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Egli ti porteranno nelle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Salmo 91, versi 11 e 12. Gloria a Dio. E dice lui, il diavolo ci osserva 24 ore su 24 per trovare cose per accusarci, come dice in Apocalisse 12, verso 10. E gli angeli di Dio, invece, ci osservano anche loro sempre per custodirci. E la decisione di chi è? È nostra. Nostra. A chi seguiamo, sì. Noi siamo l'ago della bilancia. Amen. Alleluia, alleluia. Quando vuoi ci fermiamo, Angelina. Sì. Chiudiamo con una scrittura, un passaggio. Salmo 119. Ok. 16. E 16 anche 105 metti. Io mi diletterò nei tuoi statuti. Non dimenticherò la tua parola. Verso 105. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Salmi 119, versi 16 e 105. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Fratellino, Dio ti benedica. Dio ti benedica. Sì, amen. Grazie. Francesco, è stato un bel studio questo.